Un 39enne di origini nigeriane è stato arrestato dalla polizia di stato per molestia nei confronti di una 14enne. Il fatto sarebbe avvenuto nella serata di lunedì in via Olevano. La ragazza si trovava nei pressi della fermata dell'autobus quando sarebbe stata palpeggiata dall'uomo. Le sue urla hanno attirato il cugino 12enne, che era poco distante da lei, ed alcuni passanti, che si sono avvicinati al 39enne, il quale per timore di essere linciato è fuggito in una vicina tabaccheria. Ad intercettarlo gli agenti della polizia, che hanno condotto l'uomo presso il carcere di Salerno. Dopo la denuncia della ragazza, l'attenzione degli inquirenti si è concentrata sui testimoni, che potrebbero aiutare a ricostruire al meglio l'accaduto. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'interno Matteo Salvini attraverso un posto su Facebook. Con il decreto sicurezza, scritto il ministro, questi delinquenti dovrebbero essere subito espulsi.